Insalata d'orzo fresca e saporita con pesto di basilico e mandorle, feta e olive taggiasche. Provala perché è assolutamente buona buona. Sciacqua l'orzo sotto acqua corrente e cuocilo in abbondante acqua salata. In pentola a pressione 20 minuti dal fischio. Raddoppia i tempi in una pentola normale. Sciacqua il basilico, asciugalo per bene e raccogli le foglie in un contenitore a bordi alti. Aggiungi un po' di scorza di limone bio ben lavato, olio extravergine d'oliva e mandorle. Un pizzico di sale, un po' di parmigiano e un goccio d'acqua ben fredda. Frulla il tutto con un frullatore ad immersione fino ad ottenere una crema. Taglia a cubetti un panetto di feta. Una volta cotto, metti l'orzo in una terrina, condici con olio extravergine d'oliva e lascia raffreddare. Condicilo poi con il pesto di basilico e mandorle. Unisci la feta. Unisci la feta. I pomodori secchi tritati grossolanamente e le olive taggiasche denocciolate oppure puoi utilizzare le olive verdi. Mescola per bene e fai riposare almeno due ore per amalgamare per bene i sapori. Questa insalata d'orzo è strepitosa. E voilà.